Radu in porta, poi in difesa a Sernicola, Chirikesh, Vasquez potrebbe essere una difesa a tre. Il nuovo leader difensivo Vlad Chirikesh, dall'altra parte invece la Ternana, nuovo acquisto di Tacchio, Radu, Saju, Chirikesh, tre, tanto per cominciare, direttore ex Tottenham e Sassuolo. Vasquez, sul messicano Vasquez, riso e allora cambio di possesso, Martella trova a partipilo, Martella sta per battere i davocchierecchie, Agazzi, formata l'area. La giocata profonda poi decide invece per quella di prostizione Rovaglia, cerca l'inserimento di Agazzi, invece trova Vasquez. Tinari si gira bene e manda Agazzi, lo scambio tentato con Rovaglia. L'incontro Zanimacchia, dicevamo di un ruolo nuovo se vogliamo rispetto all'anno scorso, perché dribbling ancora Zanimacchia, Zanimacchia in area, Zanimacchia in mezzo, Saju! Che giocata della Cremonese per l'1-0! I soliti Giringhelli cerca ancora il venturo in area, partipilo, partipilo dietro per Rovaglia. La battuta di Castagnetti, deviazione di testa e 2-0, ha segnato l'altro attaccante, prima Saju, poi anche Okereke. Tipica esultanza dell'ex attaccante del Castagnetti. Vasquez che attaccava la profondità, Valeri l'avrebbe voluto invece venire più in colmo, la capacità di attaccare l'avversario. Vazquez lavora bene su partipilo. Ancora Vazquez. Supera anche il ritorno del... Vazquez di testa. Saju, Pettinari, prova ancora a legare il gioco, attaccato da Vazquez. Lo di Pettinari. Vazquez, pensando magari a quali modifiche apportare nel secondo tempo. Vazquez. Ginocchio e poi rovescio. Vazquez. Pettinari cercava perché Niccolò Corrado. Ecco il cross, colpo di testa! E sotto porta c'è la deviazione del 2-1. La Ternana si rimette. Nell'area, attenzione, doppio dribbling. Palumbo! Su partipilo non concesso. Dribbling, 2. Fulminato Radu. Pitano mostra lo stemma. Va a prendere... Vazquez. Alla lunga. Di reazione, Sernicola. Quagliata! Entra. E lascia subito un segno. Quagliata! Al primissima protagonista, al sub-Baint. Perla. Recupero efficace, ma a metà. E poi Palumbo. Passaggio intermedio da Vazquez. La vuola prende Bokta. Prova ad arrivarci a Gazzi. La prende invece Vazquez. Per Vazquez. È passato ancora Vazquez. Valle in metà. Pickel. Partipilo, vuole il cross basso. Vazquez non ci pensa. Tutano possibile. Rimessa la terra. Arriva il cross dentro. Vazquez! Occasione fallita però di vantaggio per la Cremonese.